I detenuti di tutta Italia sono in sciopero della fame per protestare contro le condizioni nelle carceri. Il sovraffollamento c'è anche nella nostra regione che ospita 5 strutture, in attesa che parte il cantiere per il nuovo penitenziario di San Vito al Tagliamento. Eleonora Mastromarino. Dal Coroneo arriva il rumore degli oggetti metallici che battono sulle sbarre delle celle. I detenuti del carcere triestino hanno aderito allo sciopero dei pasti indetto dai radicali, rinunciando al cibo per mandare un messaggio al governo. Questa iniziativa non violenta attuata dai detenuti a Trieste ma anche in altre città d'Italia è per aiutare il governo, per sollecitare il governo ad attuare entro l'estate i decreti legislativi per la riforma dell'ordinamento penitenziario. L'80% dei detenuti non ha mangiato e i pasti non consumati sono stati poi portati nella sede della comunità di San Martino al Campo, a Trieste, per distribuirli a chi ne ha bisogno. Secondo la direttrice della casa circondariale, Silvia Della Branca, la metà dei detenuti non sa neanche perché sciopera, certamente però le condizioni di sovraffollamento della struttura hanno contribuito. Nel capoluogo di Regione dovrebbero esserci un massimo di 149 persone e invece ce ne sono 187. Situazione comune in tutti e cinque i penitenziari del Friuli Venezia Giulia, infatti in Regione ci sono 641 detenuti a fronte di una capienza massima di 476. Abbiamo una concezione cimiteriale degli istituti di pena, spiega la direttrice della Branca. Non ci dovremmo limitare a contare i posti letto, ha aggiunto, ma dovremmo considerare la capacità di fornire attività trattamentali, la cui offerta si riduce se il numero dei detenuti e del personale, oltre che gli spazi, non sono adeguati. Il carcere con le maggiori criticità in Regione è quello di Pordenone. Qui ci spiega Pino Roveredo, il garante dei detenuti del Friuli Venezia Giulia, gli spazi sono troppo ristretti, lui li definisce disumani. Per risolvere il problema si resta in attesa della realizzazione della nuova struttura a San Vito, il cui cantiere però deve ancora essere aperto.